Fratelli d'Italia Eboli scende in campo al fianco del candidato sindaco Damiano Cardiello ad annunciarlo il commissario cittadino Vincenzo Morriello che in una nota ha spiegato le ragioni della scelta, in primis la lunga storia di militanza nel centro-destra di Cardiello, a seguire la natura civica che afferma Morriello da garanzie di un'ampia coalizione a sostegno tesa ad includere la totale disponibilità ad una collaborazione programmatica fatta di proposte condivise. La scelta di convergere su Damiano Cardiello, aggiunge Morriello, è stata dettata dalla volontà di una scelta civica sulla quale ci si augura possano convergere anche gli altri partiti del centro-destra. Fratelli d'Italia, pur avendo tra i suoi iscritti personalità di grande rilievo che potevano essere proposti quali candidati sindaco, proprio per cercare l'unità del centro-destra, ha preferito convergere su un candidato capace di aggregare ulteriori segmenti della società cittadina. Nelle prossime settimane intanto sarà convocata una conferenza stampa per la presentazione della lista alla presenza del coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore e dei parlamentari Cirielli e Iannone.